Che è papà? Benvenuti a tutti a trovare un saluto Bella a tutti ci ha salutato Sciaone Sciaone a tutti Io sono Francesco Vengo da Napoli 19 anni Niente 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 Non ho qui su Youtube Perché Ho sempre stato affascinato da questo mondo Vorrei iniziare la parte filosofica Ho sempre stato affascinato da questo mondo Ho sempre guardato molti youtuber Però Non ho mai Capito cosa Fare poi su Youtube Perché c'è il videogioco C'è il La comoscità 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 Ecco io amo tutto Infatti non so Di cosa vorrò parlare Di cosa vorrò fare Avrò fatto tipo questo video Quante volte 1822 Per essere precisi 4 milioni Che posso dire Vi potete aggiungere su Facebook Instagram Twitter No Twitter non ce l'ho Tumblr Non lo do Provate tutti i link In descrizione Tutti i link in descrizione Poi giù Poi giù Poi giù Se no Ma fa mucca Dove di riflessione Tanananana Non lascerò molti video All'inizio Vi spiego Anche se dovrei farlo Questo perché Lavoro E Il mio lavoro mi ruba molto tempo Anche se amo quello che faccio Farò altri video Ma tipo usciranno Una settimana purtroppo Non voglio essere visto come poi Quello del Capimatti Quello Cos Cos Non voglio sembrare Il figaccio Della situazione Che poi lui Si mette su YouTube Per accaparrare Solo mi piace E' una cosa che amo fare Ma realmente Prima che poi Nascessero tutti YouTube Stephanie Gretan Manchi 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 Sono emozionalissimo Non riesco a parlare Io sono preoccupatissimo Sono preoccupatissimo Mi manderanno tutti a fanculo Non so se Al primo minuto Al Al Primo step Del video Mi stoppate tutti Mi mandate a fanculo Salvatemi per la location Non sono una Una gossip Che io Serena Quanto il pozzo Una flash Inutile che ridi Dovevo fare questo video Tipo Oggi Ieri Domani No domani No Dovevo farlo oggi Alla luce del sole Infatti scusatemi Della luce che fa pena Vi lascio Una buonanotte Buongiorno Un buon Chissà chi Iscrivetevi Niente 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 Vabbè Non fa niente Ci vediamo al prossimo video Ciao ragazzi Poi Già Ho Ho